Ho rovesciato tre calici di vino su dei ragazzi francesi che per fortuna sono stati comprensivi e cortesi anche il capo ne avrà viste tante perché devo dire è stato tollerante semplicemente ero un po' confuso tre anni che non ti vedo ma ho la sensazione tu mi tenga il muso non avrei saputo dirti cosa stavo facendo non avrei saputo dirti se mi stava piacendo non sapevo neanche che vino fosse ma le macchie erano rosse non avrei saputo dirti cosa stavo facendo né di preciso il mio stipendio non ricordo bene che mese fosse ma le foglie erano rosse dopo un minuto ho rotto il posacenere davanti ad una mezza venere e avevo tagli alle mani mi ha ferito con gli occhi sembrava che volesse dirmi lei si rompi tutto tutto quello che tocchi e mi son sentito un po' frustrato tre anni che non ti sento e ancora non so esattamente che cosa ho sbagliato non avrei saputo dirti cosa stavo facendo non avrei saputo dirti se mi stava piacendo non sapevo neanche che vino fosse ma le macchie erano rosse non avrei saputo dirti cosa stavo facendo né di preciso il mio stipendio non ricordo bene che mese fosse ma le foglie erano rosse avrei saputo dirti cosa stavo facendo avrei saputo dirti cosa stavo facendo io non ricordo bene comunque fosse qui le macchie erano rosse 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 i